Grazie a tutti. 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 Come vedete ambiente servizi ha delle performance da questo punto di vista molto buone nel senso che a riciclaggio va al 48,9%. Si parla di plastica, si parla di plastica, si parla di plastica, di carta, di vetro, eccetera. Il 33,9% si parla di compostaggio, si parla di compostaggio, sia della frazione organica che della frazione vegetale, il 16,97% è recupero energetico e solo 0,72% va in discarica. Il recupero energetico è una forma alternativa. di recupero è un'altra parte di recupero è un'altra parte di rifiuti che non si parla di riciclaggio, che è un'altra parte di rifiuti che non si riescono a recuperare. Il confronto con il confronto con la situazione italiana ed europea è in particolare il dato della discarica. Dicevamo prima che in effetti oggi lo smaltimento in discarica continua ad essere uno smaltimento molto importante, molto accentuato, molto utilizzato in molte zone d'Italia. Vedete che in Italia è al 28%, in Europa è al 25%, ma il dato significativo secondo me è anche che in Europa c'è un utilizzo del recupero energetico molto importante e questo avviene soprattutto in quegli stati che sono più virtuosi dal punto di vista ambientale. Parlo della Germania, parlo dell'Olanda, parlo dell'Austria. Ecco, qui non mi ripeto, dico solo una cosa, che in effetti l'impianto e il sistema di raccolta porta a porta che è stato organizzato in ambiente servizi segue perfettamente quella che è la scala gerarchica di gestione dei rifiuti, che parte dalla prevenzione e in ultimo ha lo smaltimento dei rifiuti in discarica. Come vedevamo prima, in effetti l'utilizzo della discarica è proprio al minimo. L'impianto di ecosinergie lavora in questo modo, qua ho sintetizzato i due flussi, il flusso dei rifiuti differenziati che arrivano in impianto, vengono trattati e quindi c'è un recupero di materia e abbiamo in questo caso imballaggi in plastica, acciaio, alluminio, ferro, carta e cartone. Dalla trattamento di questi rifiuti ci sono degli scarti di lavorazione che assieme ai rifiuti indifferenziati, o meglio i rifiuti residui, vengono poi trattati in un impianto che produce il CSS, ovvero il combustibile solido secondario. Che è una... quel prodotto in realtà è un rifiuto, ma che introducevo prima il professore, che in effetti oggi pur avendo delle caratteristiche molto... che sono identificate come una... come sostanzialmente dovrebbe essere un prodotto, non ci sono oggi di spazi per collocarlo in tal modo e quindi si deve consegnare come rifiuto, quindi con formulario, eccetera. Quello che voglio segnalare, quello che voglio evidenziare è la difficoltà che oggi sta attraversando questo settore. La sta attraversando oggi, ma è un fatto che già da due, tre anni stiamo attraversando, ovvero c'è un problema di collocazione dei rifiuti, ma di tutti i rifiuti. Quindi si parla dei rifiuti riciclabili, quindi quelli che sono... che hanno oggetto come recupero di materia, perché la carta e la plastica, per esempio, andavano di recupero, andavano prevalentemente in Cina. Dopo c'è stato, a fine 2017, c'è stato un blocco delle importazioni da parte della Cina, per tutta una serie di motivi, che ha limitato fortemente queste importazioni, generando una sovrabbondanza di materiale in Europa, per esempio, dove non c'erano le strutture adeguate per riuscire a lavorarlo tutto. E quindi questo ha generato tutta una serie di problemi, che sono... il primo è ovviamente la flessione dei prezzi, perché questo ha generato un crollo dei prezzi del mercato. Ma un altro problema, ancora più importante, è il problema degli spazi, perché oggi non si parla più di problema di prezzo, si parla di problema di spazi. Questo problema ce l'abbiamo anche sul CSS, quindi non è che si risolve il problema facendo tutto combustibile, anzi, anche in questo caso, ci sono gli impianti che ci sono, sono sempre quelli, e non ce ne sono di nuovi, oltretutto i governi, comunque anche all'estero, noi abbiamo una posizione logistica che in qualche modo ci consente anche di andare all'estero per conferire questi rifiuti dove vengono trattati, in centrali elettriche piuttosto che cementifici, ma anche qui diciamo che c'è sempre meno disponibilità, perché ovviamente anche i governi prima devono gestire i rifiuti che vengono prodotti all'interno del loro territorio e dopo vengono a prendere quelli che vengono da fuori. E quindi anche qui c'è un problema rilevante. In effetti questa slide rappresenta quello che sono il punto di partenza e l'impianto, e il punto di arrivo e dove vanno questi rifiuti per riuscire a garantire una continuità del servizio. Vedete che vanno in diversi paesi europei e anche con l'utilizzo di mezzi diversi, sia su ruota che su treno. Questo per dire che in effetti l'economia circolare rappresenta più che un'opportunità, oggi una necessità, perché non avendo più grandi disponibilità o disponibilità sempre più ridotte, dobbiamo comunque trovare un sistema per risolvere questo problema, che io che ci lavoro posso dire che in futuro sarà sempre peggio. Qui ci sono dei target della direttiva dell'Unione Europea sull'economia circolare, che non ripeto perché sono già stati detti, ma sono dei target molto ambiziosi, che alla fine si traducono e possono essere raggiunti solo nel caso di applicazione di sistemi di raccolta differenziata, fatti in un certo modo, sistemi di raccolta porta a porta, con l'idea di valorizzare i rifiuti che ci sono, ma creando un sistema infrastrutturale che supporti questo tipo di sistema. Entriamo quindi nel merito di quello che è un po' l'oggetto della presentazione del progetto, ovvero la frazione organica. Se vediamo la composizione dei rifiuti urbani che si raccolgono, la frazione organica è quella che pesa di più. Vedete che in Italia pesa circa il 35,7%, e il valore più o meno lo riflette anche Ambiente Servizi. Quindi è su questo rifiuto che la società ha deciso di investire su un progetto di economia circolare. Progetto di economia circolare che qua rappresento, partendo dalla mela buttata, che poi viene raccolta dal camion delle immondizie che raccoglie il rifiuto organico, che lo conferisce a un impianto di compostaggio. In quell'impianto di compostaggio, attraverso il processo di digestione anaerobica, viene fatto il biogas, che a seguito della raffinazione viene fatto il biometano, che poi viene utilizzato per alimentare i mezzi, stesso mezzo che poi è andato a raccogliere appunto quel rifiuto organico. Il progetto riguarda questo, riguarda la sostituzione dei mezzi utilizzati per la raccolta da gasolio a biometano. Le motivazioni sono diverse. Il primo è quello di adeguare la struttura dei mezzi in funzione alle attuali operazioni di raccolta, perché le operazioni sono di raccolta porta a porta, e quindi inducono a creare una struttura adeguata a questo tipo di attività. Migliorare la sicurezza degli operatori a dette della raccolta, adeguare il parco mezzi alle caratteristiche richieste del mercato, perché il mercato vuole comunque delle performance ambientali sempre più sostenibili. Contenere i costi di carburante, perché comunque il metano, in particolare il biometano, ha un costo molto inferiore rispetto al gasolio, oltre ad essere anche più stabile. E il tutto utilizzando un biocarburante avanzato a basso impatto ambientale. Il totale, l'investimento, la portata dell'investimento, è di 70 nuovi mezzi tra il 2017 e il 2019. Questa parte l'abbiamo già compiuta. E in più, per andare a completare la sostituzione, ce ne saranno altri 46 tra il 2020 e il 2021. Il beneficio del biometano, ecco, qua comincio a introdurre i concetti già detti, ecco qua abbiamo tradotto in questi termini, con 100 kg di rifiuto organico si ottiene un quantitativo di biometano utile alla percorrenza di 100 km con una utilitaria, è di 7,3 km con un mezzo medio di ambiente servizi. E quindi qua abbiamo, diciamo, tradotto un po' il contributo che dà ambiente servizi in termini di produzione di biometano e quindi abbiamo detto, con le 12.300 tonnellate raccolte di rifiuto organico si producono circa 475.000 kg di biometano utile alla percorrenza di 900.000 km di un mezzo pesante che corrisponde a una percentuale importante rispetto alla percorrenza annua fatta da tutti i mezzi della società. I benefici si traducono in diversi aspetti, in un'autosufficienza energetica, nel raggiungimento degli obiettivi europei, inoltre il biometano può essere immesso nella rete del gas naturale e inoltre ha un'influenza positiva riducendo le emissioni di ossidi di azoto particolato e CO2. Dal punto di vista economico, inoltre, è un investimento che è anche sostenibile, quindi qui abbiamo messo un valore di mercato del biometano, non il valore di mercato del metano, la pompa che è del 0,98 circa, ma il costo è di 0,5 euro al chilo contro il gasolio che è 1,1, questo in questo momento ovviamente per la società, non per l'utente, con un risparmio del 54% che poi può essere variabile, può anche essere a seconda di quello che è ovviamente il prezzo del gasolio, certamente. Dal punto di vista ambientale ci sono delle forti riduzioni rispetto ad un maturo di gasolio sull'effetto serra, circa il 20-25%, inoltre è molto meno rumoroso. Questo, quando parlavo di sicurezza degli operatori, vi assicuro che questo è uno degli elementi che aumenta la qualità del lavoro da parte di chi opera in questo settore, perché se pensate che nelle raccolte porta a porta l'autista sale e scende dal mezzo anche 300-400 volte al giorno e quindi essendo sempre vicino, essendo sempre all'interno del mezzo e anche all'esterno, questo, come anche quest'altro aspetto, diventa un elemento essenziale, cioè le minori esalazioni ovviamente contribuiscono in modo significativo nel miglioramento della qualità, ovviamente non solo dell'operatore, ma di tutta la cittadinanza. Ci sono degli aspetti critici, in particolare questo, ovvero ci sono limitate possibilità di approvisionamento a causa del numero contenuto di distributori nel territorio di riferimento, cioè qua parliamo del bacino dove noi operiamo, ma del Friuli, Venezia e Giulia ci sono pochissimi distributori di metano, cosa che invece non succede, ad esempio, nel resto d'Italia, perché in Italia in realtà è il primo tra i paesi europei per numero di distributori e anche una rete molto sviluppata, però ci sono delle differenze, ad esempio il Veneto ha 156 distributori, mentre il Friuli ne ha 8, ne ha 8 e in particolare nella zona nostra ce ne sono 3, quindi diciamo che logisticamente crea delle problematiche ovviamente questo. Quindi ci sono delle soluzioni, la prima soluzione è l'installazione di un distributore interno, inoltre l'accordo per la fornitura del biometano con altre aziende del territorio attrezzate per l'erogazione di questo combustibile, penso ad esempio ai produttori diretti di biometano, che poi essendo anche nella nostra area dei soggetti che fanno anche le raccolte sono anche dotati di distributore. Quindi il progetto prevede ovviamente la realizzazione del distributore del biometano e prevede che questo distributore e l'alimentazione del distributore avvenga in questa fase con cari bombolai, caro bombolaio di cui vedevamo prima parte direttamente dal produttore, arriva direttamente alla sede dell'impianto e attraverso gli erogatori si riesce a chiudere il ciclo. Quindi in conclusione questo tipo di progetto ha dei vantaggi economici che derivano appunto dal minor costo del biometano rispetto al gasolio, consente di avere dei miglioramenti nel livello di sicurezza per gli operatori addetti alla raccolta grazie alle minore emissioni nocive e inoltre attraverso l'alimentazione col biometano dei mezzi di raccolta rifiuti si conclude il ciclo del recupero e si concretizza quello che è effettivamente un progetto di economia circolare. Grazie.